Allora, ci sono, parto un po' da lontano, ci sono delle gioiellerie che negli ultimi tempi, ultimi anni, forse una decina, forse meno, non lo so esattamente, propongono dei gioielli dedicati agli animali, ma soprattutto agli animali che non ci sono più, della serie Portaci la foto del tuo animale, del tuo cane, del tuo gatto e noi la metteremo all'interno di un ciondolo che ti porti sempre con te. I più delle volte, ripeto, è un animale che non c'è più, un gatto che non c'è più, ma quando va peggio, scusatemi se dico questo, e portaci le polveri del tuo cane e del tuo gatto, ne faremo un gioiello che ti porti con te, io so di chi ce l'ha, essendo io, non tanto io, noi siamo gattari, ma essendo per esempio mia madre, mia nipote ha dei cani, mi metto un po' nei loro panni, questi cani, questi gatti importanti che prendono possesso, mi viene a dire talvolta delle case, delle famiglie. Allora, ho invitato oggi un'amica, una psicologa, si chiama Alessandra Tozzi e con lei ne parleremo. Ciao Alessandra, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuta. Allora, Alessandra, parliamo un po' di questo argomento, quando intanto innanzitutto quando muoiono gli amici a quattro zampe, che poi della volta viene da dire che sono fratelli e sono figli, perché magari sono quattordici anni, che sono sedici anni, mi accorgo, sono sicuro che sia un gran dolore. Tanto come passare questo dolore, ma prima perché ci si affeziona così tanto a degli animali? Allora, prima di tutto dobbiamo ricordare che c'è stato un cambio a livello sociale nella considerazione di questi animali d'affezione e gli animali da compagnia. Se ripensiamo anche semplicemente a vent'anni fa, trent'anni fa, di sicuro non troviamo tutta la scelta e tutta l'attenzione che viene riservata adesso. Pensiamo ai negozi dove viene acquistato il cibo per gli animali, che sono diventati dei veri e propri supermercati, piuttosto che i vestitini, gli accessori, tutti i passeggini, se ne vedono tanti per la strada di cani anche anziani che vengono portati con il passeggino come i bimbi. Quindi c'è stato un cambio culturale che ha in qualche maniera assecondato quello che è il sentire delle famiglie. Spesso gli animali, in particolare i cani per la loro presenza nelle famiglie, ma anche i gatti, non parlo di cose più piccole anche se ovviamente ci si attenziona anche a quelli, ma diventano un componente, un partecipante della famiglia. Vengono presi i cuccioli, vengono allevati con tutte le cure, tutte le attenzioni. I veterinari stessi hanno adesso specializzazioni che vengono pubblicizzate, dermatologo, veterinario, cardiologo. Ai miei tempi quando tu portavi il cane dal veterinario era il veterinario punto. Invece c'è una specializzazione, c'è una fortissima attenzione al bisogno dell'animale e questo bisogno è diventato quasi una sostituzione di quello che è il componente della famiglia e quindi riempiono vuoti vorrei dire o compongono, aggiungono partecipanti della famiglia e come questi vengono vissuti e quindi nel momento in cui c'è il lutto, c'è la perdita, c'è la malattia dell'animale ci si rende conto che questi esseri pelosi vengono trattati esattamente come se fossero esseri umani. Per esempio la mia fidanzata vorrei dire che noi siamo gattari, tutti i gatti della via e se hanno problemi li operiamo noi. Io vedo a fine anno mi vanno via dei 5-700-1000 euro perché abbiamo operato il gatto quello nero si chiama Nerino e poi abbiamo operato e li operiamo. Però non c'è una sostituzione, c'è proprio in questo caso un samaritanesimo come si può dire, un aiutare gli altri. Per prendersi cura. Esatto. C'è una maniera per, andiamo a parlare invece proprio della mancazza, nel momento in cui ti muore un animale, uno dei miei migliori amici, che ti perso la settimana scorsa, è morto un cane, è uscito dopo 5-6 giorni da casa, un lutto, ce l'aveva da 17 anni, quindi 16 anni, mi sembra, ma quando lui è andato a vivere nella casa nuova è arrivato il cane ed è morto da 16 anni, ti vedi sempre questo animaletto, io mi rendo conto che sia una mancanza, una mancanza pazzesca. Ma come fare per sostituirlo, o meglio, come fare per non soffrire così tanto? C'è una maniera per farlo? Non c'è, non c'è una maniera per non soffrire perché comunque il lutto, la perdita viene processato, e qui entriamo nella dinamica puramente psicologica, viene processato dalla nostra mente esattamente allo stesso modo, che si tratti di un animale o che si tratti di una persona. Ovviamente io soffro nella misura in cui do valore, do importanza a quello che sto perdendo, quindi va elaborato come un lutto e non esiste un modo per non soffrire. Di sicuro quello che io posso fare è entrare nella sofferenza, accettarla, sentirla, quindi sentire il male che fa, non fingere che non ci sia. Senti di piangere, piangi. Piangi, piangi, e poi vai avanti, anche perché ciò che spesso non si comprende è che mentre noi abbiamo un'aspettativa di vita, per cui insomma adesso si è anche alzata, noi ci aspettiamo che una persona faccia parte della nostra vita da 0 a 90 anni, i cani, prendiamo i cani ma anche i gatti, sebbene anche la loro media di vita si sia alzata molto, hanno una vita molto più corta, quindi 15, 14 cani di taglia grande anche meno, i gatti, ho sentito anche di gatti che sono vissuti 20 anni, ma diventano dei grandi anziani e quindi nella nostra vita non ci sarà, ci sarà difficilmente un solo animale, ce ne saranno di più. Quindi tu dici, prendiamo degli animali sapendo che comunque se ne andranno via, probabilmente si spera prima della nostra vita, quindi sappiamo quello che è. E consiglieresti di chiodo, scaccia chiodo, quindi comprare un animale subito dopo? No, io non consiglio che sia una cosa che avviene subito, certo se io ho desiderio, perché moltissimi poi mi riferiscono che c'è il dolore della casa vuota, no? Quindi soprattutto perché i cani sono meravigliosi che quando tu entri in casa arrivano, ti scodinzolano, sono felici di vederti. Un po' meno i gatti però. I gatti insomma ti sopportano, sei a casa loro, quindi... È vero, è il contrario. Esattamente il contrario. Ma c'è un bellissimo meme che gira adesso sui social che dice se hai dei figli adolescenti e hai un cane, sii felice perché ci sarà almeno una persona che sarà contenta di vederti. Almeno un componente che sarà... Ed è così effettivamente, gli animali ti danno tantissimo, sono in grado di portarti delle emozioni enormi, fortissime. Però noi dobbiamo sempre ricordarci che hanno un'altra natura e che va rispettata la loro natura. Quindi l'umanizzazione va bene, ma va bene nel momento in cui non vado a ledere i diritti dell'animale. Senti, ti faccio l'ultima domanda e magari ce la giochiamo brutta anche con gli sponsor. Prima parlavo di gioielli che hanno fotografie eccetera e ognuno, attenzione, ognuno può fare quello che vuole, neanche obblighiamo qualcuno a farlo. Ma cosa ne pensi di chi, magari la fotografia ci sta, ma chi si porta le ceneri del cane e del gatto dentro un gioiello e se lo porta in giro, è un po' un esagerare. Attenzione, ce la giochiamo a male con gli sponsor però vi diciamo la verità, come la pensiamo. Lei? Allora, io come la penso, hai già scaricato il barile. Io penso che siano delle estremizzazioni che non fanno bene alla persona che le sta vivendo. Cioè non gira pagina, dici te. Perché comunque se noi crediamo che dopo ci sia qualcosa, che sia un animale, che sia una persona, io non ho bisogno di avere le ceneri del mio animale per sapere che l'animale è ancora con me. Quindi dico la stessa cosa che dico a tutti. Tu ricordati, usa il ricordo per vivere le cose belle che avete passato insieme. Anche perché generalmente gli animali hanno solo te. Tu sei il loro inizio e la loro fine. E quindi da lì si parte e si costruiscono e si ricostruiscono ricordi. Se non avete mai visto un cimitero degli animali, vi consiglio al Tedo, è uscito al Tedo, lì vicino c'è un cimitero degli animali. Io sono stato, per sbaglio, uscita sbagliata. Sono tornato indietro, sono andato dentro, mi sono veramente commosso. L'amore delle persone per gli animali è pazzesco, veramente. Alessandra, io ti ringrazio e grazie per essere stata con noi. Andremo a rivedere un po' in ritardo con la pubblicità. Quindi perdonatemi, però è il caso di sentire la prossima canzone. Vi abbraccio. Ciao, grazie ancora. Ciao, Alessandra. Ciao, ciao.